Ciao, sono qua con Leonardo, ciao Leonardo, ciao Giorgio, buona partita, una bella vittoria. Cosa mi dite la partita? La partita abbiamo iniziato un po' male subendo anche un po' gli avversari, questo non ce l'aspettavamo neanche perché hanno iniziato bene loro, poi veniamo da un periodo difficile perché dovevo averle vinte tutte nell'andata, praticamente parte 1, in questo ritorno abbiamo fatto un po' più fatica però poi nel secondo tempo alla fine i calori sono tutti fuori. Siete parti fortissimo al secondo tempo. Quei fortuna. Mi sono fatto tutto tu, Bomber, hai fatto anche tanti gol. Eh, meno male, sono contento con la squadra, anche per me. Va bene. Soddisfazione, soddisfazione, dai bocca al lupo per il seguimento. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao.